Il convegno di oggi è un'occasione unica di confronto di tutti gli attori che in qualche modo hanno un ruolo determinante per la costruzione di un dato sanitario che possa essere utilmente ed efficacemente utilizzato per finalità di cura, quindi per migliorare gli esiti di salute, per la ricerca, ma anche per il governo della sanità. Queste tre tavole rotonde da un lato hanno consentito di far confrontare il bisogno di informazione che il lato dei medici sente con gli standard della seconda tavola tecnica, quindi tutti i nostri fornitori che ci aiutano a definire da HL7 all'Oicon, diciamo Agid, di questi standard, fino alla discussione nella tavola istituzionale in cui potremmo capire come mettere insieme e che percorso delineare per un costruttivo ed efficace futuro in sanità attraverso l'uso di dati che ci consentano di fare anche analisi preveditive e anticipare il bisogno di salute. Grazie. Grazie. Grazie.